ciao a tutti oggi proveremo le calze della nike elite cushion queste sono calze da nike si chiamano elite cushion sono calze ammortizzate con l'attitatura right & left che però dopo un po di lavaggi e di utilizzo scompare questo è un difetto hanno rinforzi sia sul tallone che sulla punta come potete vedere perché cushion perché 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 garantiscono un'ottima amortizzazione della calza, su ogni tipo di calzatura. Vediamo ora la composizione, che è formata da 70% nylon, 29% poliestere e 1% elastom. Nike li chiama Dry Fit Fabric. Andiamo a misurare adesso il peso delle calze Nike. Siamo 68 grammi. Prova lavatrice ora. A sinistra trovate le calze intonse, a destra invece le calze passate dopo innumerevoli cicli di lavaggio. Devo dire che la consistenza c'è ancora, non si notano sfilamenti di sorta. Diciamo che la prova è abbondantemente superata. Sono calze che io ho utilizzato per circa 3-4 mesi, innumerevoli uscite, diversi tipi di scarpe. Sono calze che mantengono una loro durata e una loro amortizzazione anche nel corso del tempo. Quindi è un vantaggio da questo punto di vista. Sono un po' pesantine e devo dire che il difetto principale è che sono strette. Quando si inseriscono sul piede, io ho preso la misura 46, quindi la misura più ampia, chiamiamola così. Però c'è da dire che si fa fatica a vestirle. Dal momento che poi sono sul piede non ci sono problemi di sorta. Ci sono invece dei piccoli carteri fangenti che quando vengono colpiti dalla luce segnalano la presenza del corridore. Almeno speriamo. In conclusione, sono calze che garantiscono una ottima traspirabilità, materiale resistente dopo un lungo utilizzo. Sono calze sicuramente da consigliare. Al prossimo episodio